Peggy Seven E' giunto il momento, per la Terra, di soffrire. E voi, comuni mortali, pensate che i vostri supereroi possono proteggervi? Quanto siete stupidi! Wow! L'entrata così teatrale, con le luci e tutto il resto! Lui è il Dio del Tuono, è la sua specialità. Loro si ritengono potenti, ma non conoscono in realtà cosa sia il vero potere. Che diavolo vuole? Lui desidera sempre solo una cosa, il potere. E anche gli almeti con le corna. Ne va veramente matto. Per caso ti ricordi di questo giocattolino? Per caso ti ricordi di questo giocattolo? Grazie per la visione.